Stefano Brondi, direttore musicale di questo nuovo progetto Musica Ribelle, siamo al CPM dove è stato presentato agli studenti il casting. Non vogliamo svelare troppo, ricordaci soltanto chi state cercando per questa opera musicale non musical. Ok, esatto, è importante, ma perché ci teniamo che la musica sia ad un livello di importanza, anche dato il mio ruolo, che è abbastanza... Poi parliamo della musica, però intanto è proprio il casting. Allora, noi cerchiamo in due fasi distinte, il 3 e il 4 giugno a Firenze, il 10 e il 11 giugno qua al CPM di Milano, e le figure dell'attore performer classico, quindi diciamo quello che si presenta normalmente ad un provino per il teatro musicale, che non deve obbligatoriamente saper suonare, cioè la figura del classico attore cantante con attitudini al movimento scenico, perché anche le coreografie saranno non particolarmente danzerece, ma molto coreotica, molto di movimento. Quindi non per forza ballerini? Esatto, esattamente, quindi con una preminenza attoriale e musicale cantante, e poi questa figura di musicisti attivi in scena, per cui selezioneremo sia dal banco di prova del CPM, degli elevi preparatissimi di questa scuola, ma anche fuori, perché l'audizione è assolutamente libera, va detto, musicisti con attitudine alla recitazione, quindi musicisti che abbiano preminenza del loro strumento, in questo caso cerchiamo batteria, basso, chitarra, tastiera, con soprattutto per la batteria due ruoli, un uomo, un ragazzo e una ragazza, etascenica di entrambe le figure tra i 20 e i 30 anni. Quindi tutti tra i 20 e i 30 anni, non ci saranno figure adulte come Spring, per ora? Al momento no, perché la, ci teniamo a dire, la drammaturgia è ancora, diciamo, in progress, però, diciamo, per adesso cerchiamo questi ruoli facenti parte di questo cast gruppo di dieci persone che veicoleranno tra gli anni 70, tra i 76 e il 2016, come ci piace dire. Quindi due cast indifferenti a Livorno e qui a Milano. La collaborazione col CPM è comunque continua, perché anche Spring Awakening avete fatto questa forma, questo contratto proprio, quindi diventerà anche un lavoro, non è un workshop fino a se stesso. Esatto, no, è importante che, visto che questa lettera qua è la lettera di professione, io ho una mission personale, quella di poter essere, o poter ambire a essere una parte di questa P, di questa veicolare questi ragazzi che escono dalle scuole verso un lavoro. Questo è un progetto che porta ad una professionalizzazione, cioè a un cast di uno spettacolo che è in tournée e girerà per due stagioni. Quindi parliamo di un obiettivo di lavoro che va fino almeno al 2017, questo è il nostro progetto. Quindi si parla di lavoro, ok? Ed è importante perché, giustamente come ogni compagnia professionista che si rispetti che porta in giro gli spettacoli, però specialmente per il comparto musicisti, la parola lavoro è sempre vista in maniera purtroppo, o troppo episodica, o troppo comunque sotto declassata. Questa invece è un buon challenge, ma poi è interessante questa, noi diciamo sempre da musicisti, ah ma perché non considerano la musica dal vivo in teatro, ma perché non riusciamo a entrare in teatro? E allora facciamo una cosa, ci mettiamo in gioco noi? Iniziamo a recitare noi, così vediamo di entrare e fare il nostro primo passo, a che si spera che rispondano gli attori e le produzioni, reinvitandoci di nuovo a suonare nei teatri. Mi vorrebbero tante domande, perché questo è un progetto un po' folle, no? Un progetto inedito, italiano, rock, non è Spring Awakening, perché comunque è già un progetto edito, è totalmente nuovo. Però le tengo in stand by, perché so che intervisterò poi altre figure, quindi concentriamoci sulla parte musicale. E le canzoni di Eugenio Finardi, famosissime, e chi non le conosce magari è un pochino più giovane, vada su Spotify a sentirle, come abbiamo detto prima, possono essere considerate già un po' un concept? Cioè si può trovare una trama, avete già un'idea tra le canzoni? Non dico un musical come Mamma Mia, chiaramente, però cosa si può fare? Guarda, allora, da integralista del genere, questo lo dicevo prima nel casting, un po' una paura da italiano che fa una cosa, che entra nel panorama del teatro musicale creando uno spettacolo, visto che il mio ruolo è di direzione musicale pura, quindi disegnerò musicalmente assieme al drammaturgo, partendo dal materiale, un materiale d'oro come quello delle canzoni di Finardi, a costruire uno spettacolo con le overture, gli underscore, tutto quello che compone musicalmente una parte di teatro. La mia paura, dato che io non amo particolarmente quelle che in gergo vanno chiamate le riviste, o jukebox musicale, quelle che attingono la materiale edito, perché è difficile collegarle, cioè non c'è una vera e propria narrazione come quel comparto musicale che viene veramente creato intorno alla drammaturgia, che quindi scaturisce da un racconto, che il musicista fa in termini di nota e il drammaturgo fa in termini di parola. Ma ascoltando, perché ovviamente chi è che non conosce Finardi, io ascoltavo le sue canzoni anche diversi anni fa, a me mi colpì nel 90 quando ascoltai una sua partecipazione a Sanremo e di lì conobbi la sua discografia, ascoltandoli in questa chiave ho scoperto una cosa che è magica, che appartiene molto a quella fase cantatoriale degli anni 70, cioè ogni cosa che lui ha scritto appartiene a lui, appartiene a se stesso, quindi c'è un legame che è la sua vita, che fa di tutta la sua discografia un enorme e bellissimo concept, per cui ecco la narrazione, ecco il legame narrativo, uno spettacolo che racconti interno ed esterno, non a caso i nomi dei personaggi saranno presi dalle sue canzoni, e porta inevitabilmente ad ascoltare i suoi brani sempre con un prima ed un dopo, che è molto bello. Io dico che, come abbiamo detto, no? Esatto, perché giustamente parlavamo di Finardi come una persona che è sempre assunta alla propria responsabilità quando ha voluto dire una cosa, è il cantatore del io dico che, e secondo me non c'è matrimonio migliore con una realtà produttiva come il Todomodo, che nonostante le critiche positive o negative sulle proprie opere, è sempre stata una compagnia che dice che, Spring Awakening ha detto che, oggettivamente poi può piacere o non piacere, quindi l'incontro, lo scontro, l'incontro con questo musicista carnale, con i propri punti di vista ferrei, e al quale noi dovremmo associare i nostri, dovremmo raccontare in questo caso, vestire, vestire teatralmente la sua musica, beh, questo secondo me è uno dei compiti più belli che mi si possa prospettare nella mia carriera. D'altronde il teatro deve far parlare, no? Assolutamente sì, cioè, secondo me il teatro deve tornare ad essere luogo di discussione e non di compiacimento, ed è importante perché questa cosa se l'ha un po' scordata il teatro, cioè è un luogo che per vendere biglietti, e giusta sua, punta sua, le produzioni devono campare, quindi devono compiacere un pubblico, però ci si scorda che spesso la gente ha voglia anche di sentire dei punti di vista con il quale confrontarsi e il quale dire di no, perché non è detto che dire di no significa non venire a vedere uno spettacolo, perché si viene anche per contestare, per raggiungere una propria idea, per raggiungere il proprio tessuto, e il pubblico in questo caso, la bellezza di Spring Awakening è stata che il pubblico è diventato la parte attiva anche dello spettacolo, perché i suoi contoni, le sue reazioni positive e negative sono diventate la narrazione lungo questi due anni di stagione bellissima di Spring. Io sono molto incuriosita, però mi fermerei qui perché poi appunto avremo altri approfondimenti. Ricordiamo, dieci performer in scena per ora, più gli swing, perché ci saranno ancora come anche in Spring, e chiuderei con un tuo pensiero personale, magari un augurio a coloro che ci stanno seguendo. L'augurio è quello di fare le proprie cose divertendosi con un impegno maniacale. Io l'ho scritto ai miei allievi di non aver paura di non aver tempo di fare le proprie cose e in fondo anche di arrivare a non aver tempo da fare talmente tante cose da non riuscirsele a godere nel momento e magari godersele poi, perché questo lavoro è bello se si arriva stremati in fondo alla giornata e non si capisce nemmeno il numero di cose che si è fatto. Noi, io con il mio assistente che ci sta riprendendo, veniamo da una prova di sei ore in cui abbiamo letto tutto il repertorio del musical Funny Girl che faremo con il musical SDM, ci sarò, lo vedrò anche quello. Esatto, meno male. Un'importantissima collaborazione tra due realtà, due scuole importanti che non si erano mai comunicati e perché no? Cioè perché uno spettacolo di teatro musicale promosso da un'accademia che fa music non deve colloquiare con chi fa musica e può fare musica per il teatro? Quindi questo è voluto dire tanto lavoro e in fondo alla giornata ci si arriva e ci si chiede ma come si è fatto a fare queste cose? Ecco, quando si fanno queste domande si sta facendo bene il proprio lavoro. e io vi auguro di farvi le stesse domande tutti i giorni come me le faccio io. E anche questo è Musica Ribelle. Grazie.